Capitano Sperdosi, ho ricevuto una chiamata. Di là. Grazie. Pronto? Maya, sono io. Joe, è successo qualcosa? Ascolta. Qualcosa a Lily? No, non a Lily, ma... Joe, ti prego, dimmi che succede. Ti chiamo per Claire, per tua sorella. È successa una tragedia. Abbracciami, adoro. No. Bianca, non... Grazie a tutti.